In questo video ci occupiamo di risolvere un integrale indefinito tramite il metodo per sostituzione. Consideriamo, ad esempio, questo integrale. Quello che osserviamo è che è il prodotto di due funzioni, una funzione coseno di x e una funzione è alla seno di x. Osserviamo che la derivata di seno di x è coseno di x. Questo ci invita a introdurre una nuova variabile t che poniamo uguale a seno di x. A questo punto differenziamo ambo i membri. Quindi, poiché la derivata di t rispetto a t è 1, avremo che dt è uguale alla derivata di seno di x, cioè coseno di x, per dx. E abbiamo effettuato la differenziazione. Quindi, notiamo immediatamente che questo è il nostro dt. A questo punto possiamo scrivere subito l'integrale come e alla t in dt. Questo è l'integrale nella nuova variabile t. Il risultato è immediato, poiché è e alla t più c. L'esercizio non è terminato, poiché dobbiamo ritornare alla variabile di partenza. A questo punto dovremo sostituire a t seno di x. Quindi, avremo e alla seno di x più c. A questo punto possiamo concludere dicendo che è consigliabile utilizzare il metodo per sostituzione ogni qualvolta ci troviamo in una condizione di questo genere. Ogni qualvolta, quindi, abbiamo un integrale che è il prodotto di una funzione composta f e h di x per la derivata dell'argomento h' di x in dx, che è uguale f di t in dt, dove abbiamo posto t uguale a h di x, e quindi la differenziazione è h' di x in dx. Quindi, concludendo, l'integrale avrà questa forma che, tornando alla variabile di partenza, può essere espressa in questa maniera. A questo punto, riassumendo, possiamo dare dei punti chiave per risolvere questo esercizio. Quindi, il primo punto è definire il cambio di variabile più opportuno. Il secondo punto è differenziare tale cambio di variabile. Il terzo punto è inserire quanto trovato al punto 1 e 2 nell'integrale di partenza, in maniera da avere l'integrale nella nuova variabile. Risolvere, quindi, tale integrale e il risultato deve essere poi posto nella variabile iniziale. Cosa fondamentale, poiché stiamo analizzando un integrale indefinito, è non dimenticarsi mai la costante c. L'informazione Grazie a tutti.